Eterno riposo della loro, mio Signore, splendida essere allocio perpetuo, riposo e in pace. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ma perché non vieni a lavorare con me? Perché sto bene qua. Grazie a tutti.